cornice, struttura, attenzione a queste parole, andiamo all'età di informazioni che si sposino perfettamente, servono a un incontro, un incontro che Antonio Pia che scrive tutti, conosciamo per la sua valenza di aggiungere, conoscerlo appunto personalmente, a ricercare chi sa scavare, chi sa vestire un recentissimo mondo, un'altra persona che non è il regista Enrico Ventrige, arriviamo da un altro progetto, ventinarci in questi frammenti, prego. In qualche modo l'ispiratore, anche se involontario di questo progetto, qualche tempo fa ho girato un documentario sulla Viola, sulla squadra di Palacanestro di Reggio Caraglia, una delle persone che ha lavorato a questo documentario in qualità di operatore è Antonio Melasi, Eurofim